Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Looney Tunes, questo board game della Cmon in edizione italiana a cura di Asmod Italia, che ancora una volta e come sempre ringrazio di cuore per la copia fornita. Un gioco veramente molto interessante, veloce, come tanti giochi che vi sto portando ultimamente, perché consentitemelo. Penso realmente che siano i titoli più indicati e soprattutto in un panorama board game a mi piacciono quei giochi che puoi farci giocare chiunque, dal ragazzino alla persona adulta e si divertiranno veramente pari modo. Vi presento oggi questo titolo, per me molto interessante e come detto poc'anzi davvero alla portata di qualsiasi tavolo e di qualsiasi palato. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Looney Tunes, in questa edizione italiana a cura di Asmod Italia, è un gioco competitivo da 2 a 4 giocatori. Quindi non c'è una variante in solitaria perché è un gioco competitivo. E come riporta la scatola dai 10 anni in su, sì mi trovo d'accordo, non perché sia, non è complesso, è facilissimo. Però magari c'ha il tiro del dado da aggiungere alla carta e da guardare un risultato sulle schede dei personaggi. Quindi c'è un attimino qualcosina da spiegare. E la durata di una partita è sulla trentina di minuti, quindi è velocissimo. Abbiamo 4 personaggi famosissimi che sono il Diavolo della Tasmania, il Cacciatore, Duffy Duck e Bugs Bunny. Ciascuno di noi dovrà scegliere all'inizio del gioco due di questi 4 personaggi, ovviamente se giochiamo in 4 uno per uno, però in una partita uno contro uno da due persone si va sempre in competitivo, non c'è mai la cooperativa, quindi si scegliono due personaggi, un giocatore e due l'altro. Quindi uno potrebbe scegliere, che ne so, Bugs Bunny e il Cacciatore e Taz e Duffy Duck, ad esempio. Avremo la mappa di gioco con delle zone di partenza e dovremo casualmente andare a comporre il tavolo fatto da queste zone che sono esagoni, più le due zone di partenza degli schieramenti. In questo tavolo noi potremo fare diverse azioni andando a muoverci una volta per turno con azione di spostamento da una zona all'altra e ci potremo spostare nella zona solo se uno o più slot che saranno in quella zona saranno liberi, non occupati. Ovviamente ci possiamo spostare soltanto di zone adiacenti e, a meno che non ci sia una regola particolare o una carta Mayhem particolare, ci potremo spostare di una zona per personaggio o per turno. Quindi magari sposto il Cacciatore qui e Duffy Duck dall'altra parte. In zone confinanti, almeno che il giocatore avversario non vi abbia chiuso una strada, non ve l'abbia barricata, quindi quelle zone confinanti da quel punto, fino a che la barricata non verrà rimossa, non ci si potrà muovere. E quindi l'idea principale del gioco è quella di muoversi in giro per la mappa cercando di completare obiettivi e cercando di fare scontri diretti con gli altri personaggi del vostro giocatore avversario per guadagnare punti. Perché la partita finisce quando un giocatore arriva 5 punti vittoria, il primo che arriva ha vinto la squadra, oppure quando nello stesso turno tutti e due i personaggi della squadra avversaria vengono abbattuti, quindi tolti dal gioco. Se un personaggio viene tolto dal gioco, al turno dopo rientra, perde tutte le carte, i bonus, perde gli status e tutto, però rientra. Se tutte e due vengono rimossi nello stesso turno, la partita è vinta dal giocatore appunto che li ha sconfitti. Ciascun personaggio ha la sua carta, come vedete ora dal video, con la sua abilità innata, che è un'abilità che potete usare o una volta per partita o una volta per turno, tanto c'è scritto, i suoi punti ferita e soprattutto ha sempre due abilità speciali che per utilizzarle vi basterà metterci uno dei due dadi che tirerete all'inizio del turno. Tirerete questi dadi e magari in questi dadi da 6 verrà fuori 3 e 4. Basta mettere un dado per attivare una delle due abilità, e se ne può attivare soltanto una per turno, mettendoci il dado sopra. Se invece riuscite a fare uguale o superare il valore che c'è scritto nell'abilità, magari, boh, Bugs Bunny ha un'abilità di tira a distanza con 3 o più, voi ci mettete il dado sopra, che è un 3 o più, o magari un 4 o più, qualcosa superiore, riuscite non soltanto ad usare l'abilità, ma anche usare la caratteristica speciale scritta sotto, e in più, quando all'inizio del turno avete tirato il dado Mayhem, che va a decretare il valore di danni che farete durante i combattimenti, se nel dado Mayhem c'è anche il simbolino Mayhem userete non solo l'abilità, non solo la caratteristica speciale, ma anche il valore Mayhem dell'abilità, quindi l'abilità sarà potenziata al massimo livello. Ed è tutto un spostarsi per non soltanto completare obiettivi, ma attaccare gli avversari, perché una volta che avrete attaccato l'avversario e l'avrete sconfitto, da quella zona potete prendere il punto vittoria. Quindi per prendere il punto vittoria di una zona, a parte regole particolari, di solito si va a fare degli sconti diretti. Il gioco praticamente è tutto un muoversi sul campo, bloccare la strada per magari bloccare l'acquisizione di nuovi punti in una nuova zona ai personaggi del vostro avversario e andare a fare sconti diretti per eliminargli la squadra o cercare anche di non combattere, però fermarli, bloccargli la strada, mettergli un po' i bastoni fra le ruote per andare a fare i punti prima di lui. A 5 punti, vittoria, il giocatore vince la partita. O come detto, nello stesso turno buttando fuori KO tutti e due i personaggi avversari. In conclusione questo Lunetunes, in edizione che vedete qui davanti, edizione ovviamente il gioco della Camon, edizione italiana a cura di Asmo d'Italia, è un titolo divertente per tutti, perché è un gioco di sconti diretti e poi bellino perché quando pescate le carte casuali Mayhem, voi all'inizio avete una mano di carte Mayhem, a seconda di quante ne potete tenere che c'è scritto sulle carte dei vari personaggi. Prendete la carta Mayhem, magari ne potete giocare una sola a turno, però magari usate un potenziamento che invece di fare due danni ne fate quattro. E quello che aveva quattro punti ferita non se l'aspettava il giocatore eliminato, a meno che anche lui non usi una delle sue abilità, una contro carta Mayhem, oppure semplicemente vada ad utilizzare tutti i token che ha trovato in giro che potrebbero essere schivate e quant'altro. Quindi un gioco fresco, veloce, immediato, l'unica cosa qui la scatola riporta dai 10 anni in su e mi trovo d'accordo, vi devo dire la verità, mi trovo d'accordo, non perché magari un ragazzino di 7-8 anni non ci possa giocare, assolutamente sì, però ve l'ho detto, c'è delle cose prettamente da imparare, mettiamola così, che c'è il tiro del dado, che è una cosa per attivare l'abilità, il dado Mayhem, che è il dan, è un'altra, la carta Mayhem, insomma c'è diverse cose che magari un ragazzino a tenerle tutte a mente facilmente si dimentica, però secondo me fatta una partita, scoperto il gioco. Concludo eh? In conclusione, passate appena i voti, ringrazio di cuore Asmo d'Italia per questa copia fornita, se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, insomma impressione dalla Gioco Liberia Semola, il nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, quindi già quello di per sé competitivo, ma se usate il codice discount CORIDAN7, tutto maiuscolo, CORIDAN7, avrete uno sconto del 7%, in più per spese superiori ai 79€ non pagate le spese postali, lo ordinate massimo 48 ore, arriva a casa, isole comprese e anche fuori dall'Italia, quindi anche consegne in Europa e nel resto del mondo, quindi è un servizio eccellente, mi raccomando, andate sul sito della Gioco Liberia Semola, lo trovate, pallino rosso finito, oppure l'UniTunes, andiamo a vedere, finito completamente, oppure fuori dal catalogo, non c'è manco digitando, scrivete a Corrado, al proprietario della Gioco Liberia Semola, tramite supporto, mandate una mail tramite il sito e fateli presente che venite dal canale di CORIDAN e che cercate questo gioco, è finito oppure non c'è in lista? Se è un gioco fuori catalogo o se è un gioco finito, lui farà il possibile per trovarvelo e appunto, e vendervelo, quindi il servizio è eccezionale e spettacolare perché trova anche prodotti non soltanto finiti ma anche fuori catalogo, ovviamente non roba di 10 anni fa, che quella è un po' impossibile, non si trova nemmeno nei mercatini, il servizio è eccellente e niente ragazzi, gioco passato appena i voti, veloce, immediato e alla portata di tutti, ciao alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata, mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì, ciao alla prossima!